E' importante questo protocollo perché oggi andiamo a pubblicizzare questa grande iniziativa e questa grande attività. Perché mentre prima la Croce Rossa poteva fare il tampone, poteva soltanto dire se è positivo o se è negativo, oggi lo possiamo anche certificare nella banca dati dell'ASP e possiamo essere al pari della protezione civile, al pari delle farmacie, al pari dell'ASP utili e funzionari al territorio. Utili e funzionari alla gente. Quindi con forza ci deve...